sondaggi politici giorgia meloni raggiunge giuseppe conte luca zaia aggancia matteo salvini mentre enrico letta silvio berlusconi e luigi di maio mario draghi perde consensi nella fiducia degli italiani secondo i sondaggi emg per la rai del 25 marzo il premier cala di tre punti in una settimana e passa dal 59 per cento al 56 per cento giù anche giuseppe conte anche se l'ex presidente del consiglio lascia solo un punto e mantiene il secondo posto con il 41 per cento non è però più solo infatti viene raggiunto giorgia meloni la leader di fratelli d'italia infatti cresce di un punto giù dal podio del sondaggio mg stabile c'è matteo salvini con il 34 per cento che subisce l'aggancio di un luca zaia in crescita più uno poi il governatore dell'emilia romagna stefano bonaccini che conferma il 33 ed enrico letta in lieve calo il segretario del pd con il 31 in top 10 chiudono silvio berlusconi scende di un punto e passa al 27 davanti a giovanni toti 25 per cento per il presidente della liguria e nicola zingaretti 23 per cento per l'ex segretario del partito democratico vediamo la classifica completa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti